Musica Si chiamerà un posto nel mondo ed è il nuovo servizio per chi cerca lavoro. Sarà aperto ufficialmente il 14 dicembre al villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno. La presentazione è durante la serata dedicata agli ex allievi. Antonio Olivieri ucciso dai colpi ricevuti in testa. Nel risultato dell'autopsia effettuata oggi dal medico legale continuano le indagini per risalire all'assassino. 2600 le persone bisognose del Tiguglio, 24 gli enti caritativi che le sostengono. E per loro la colletta nazionale del Banco Alimentare svoltasi oggi nei supermercati aderenti. Telepace è prima di tutto un dono che Dio ha fatto alla Chiesa. Con queste parole Monsignor Zenti di Telepace Verona ha festeggiato questa mattina i primi 40 anni di vita dell'emittente. Insegnare vuol dire essere testimoni con la propria vita. E' l'invito del Vescovo ai docenti partecipanti al corso diocesano di formazione prossimo incontro martedì 5 dicembre. Serie B finisce 1-1 al Piola. La sfida tra Virtus Sentella e Provercelli. Un gol per tempo per le due formazioni che alla fine si dividono la posta in gioco. Bianco Celesti in vantaggio con la Mantia. Palla nuotola di meglio Lavagna 90 vittoriosa in vasca oggi con una squadra di giovani e senatori. Esordio con sconfitta invece per la chiava rinuoto in trasferta. Buonasera ai telespettatori di Tiguglia oggi. E' stato presentato ufficialmente al villaggio del ragazzo un nuovo servizio rivolto a chi cerca lavoro. Si tratta di uno sportello che fornirà sostegno a chi si trova in questa delicata fase ed in particolare sarà rivolto ai più giovani. E' un'iniziativa realizzata dal villaggio in collaborazione con l'ufficio pastorale del lavoro della diocesi di Chiavari. La presentazione si è svolta nel corso della tradizionale serata dedicata agli ex allievi del centro voluto da Don Nando Negri. La tradizionale serata degli ex allievi del villaggio del ragazzo ogni anno assume una connotazione legata all'attualità. Il programma è quello tradizionale. La messa presieduta quest'anno da prete Rinaldo Rocca e la cena preparata dai volontari dell'Associazione del Bagnun. Il cui ricavato è stato destinato al dormitorio aperto al centro Franco Chiarella di San Pier di Canne. Al termine della messa è stato presentato ufficialmente il nuovo sportello lavoro Un Posto nel Mondo che risponderà al bisogno più urgente di oggi. Credo che oggi la cosa più importante sia il bisogno di lavoro che ovviamente è l'aspetto più sensibile che riguarda sia giovani che adulti. Un'opportunità in più che il villaggio mette in gioco in collaborazione con la diocesi in particolare con la pastorale del lavoro che è uno sportello che avrà l'avvio il 14 dicembre con l'idea proprio di mettersi a disposizione di chi ha bisogno e cerca di cerca lavoro. L'attività dello sportello viene portata avanti in collaborazione fra il villaggio del ragazzo e la diocesi di Chiavari tramite i fondi dell'8x1000. Gli orari sono lunedì pomeriggio dalle 14 alle 17, mercoledì mattina qui al villaggio dalle 8 alle 12 e giovedì pomeriggio sempre qui al villaggio dalle 14 alle 18. Tengo a sottolineare che questo sportello intanto è cofinanziato dalla diocesi come abbiamo detto sia vale delle risorse, delle strutture del villaggio del ragazzo e della pastorale del lavoro diocesano. L'ufficio della pastorale del lavoro collabora attraverso il progetto Policoro a cui la diocesi di Chiavari ha aderito da qualche anno. Il progetto Policoro ha proprio nella sua anima quella di mettere al centro lavoro e giovani e quindi questa occasione di collaborazione con il villaggio del ragazzo e di aprire questo sportello qua diventa proprio l'occasione per concretizzare il progetto Policoro in uno degli suoi aspetti che è quello appunto di incontrare i giovani e di ascoltarli e di poter mettere al centro i loro desideri, i loro segni, i sogni e poterli aiutare a indirizzarli nel mondo del lavoro. La cronaca adesso a provocare la morte di Antonio Olivieri, l'imbianchino di 50 anni ucciso due giorni fa a Seste Levante, sono stati più colpi alla fronte e alla testa sferrati con un oggetto pesante. E' quanto emerge dall'autopsia eseguita questa mattina dal medico legale Sara Candosin, suo incarico del PM Pier Carlo Di Gennaro. Colpi che da soli avrebbero causato la morte, mentre resta da capire se lo strangolamento con una fascetta da elettricista sia stato precedente o successivo al decesso. Il corpo di Olivieri non presentava ferite da difesa, elemento che fa ritenere agli inquirenti che la vittima sia stata colta di sorpresa. All'esame autoptico erano presenti anche gli uomini della polizia scientifica che hanno prelevato campioni da sotto le unghie di Olivieri e dalla fascetta. Le indagini della squadra mobile puntano su tre piste, quella dell'ambito familiare ma anche del lavoro o un giro di spacciatori. E non ce l'ha fatta la signora di 88 anni caduta da una fascia ieri pomeriggio nella zona alta di Via del Molinello a Rappallo. La signora stava raccogliendo dei limoni quando è scivolata e ha compiuto un volo di un paio di metri. Nonostante i soccorsi siano stati tempestivi da parte del 118 e della Croce Bianca, l'anziana è deceduta in serata all'ospedale di Genova. Ed è stato il Tiguglio, parliamo adesso di maltempo, in particolare il suo entroterra. La zona della Liguria è maggiormente interessata dalle precipitazioni portate dal transito del fronte perturbato per la quale è stata emessa l'allerta gialla conclusasi questo pomeriggio. Dalla notte un intenso flusso meridionale nei bassi strati ed intensità fino a Burrasca ha determinato precipitazioni di intensità oraria localmente fino a molto forte e cumulate sulle sei ore fino a molto elevate nel Genovesato, in particolare alle spalle di Rappallo. Vediamo proprio la grafica. Sono stati 174,8 mm di pioggia registrati dalla centralina Arpal di Giacopiane, 166 mm caduti a Cichero, 116,8 quelli caduti a Pian dei Ratti, quasi 150 invece quelli registrati a Belpiano e Borzonasca. Queste precipitazioni hanno determinato significativi innalzamenti nelle portate dei torrenti, del bacino dell'Entella, tuttavia sempre all'interno del primo livello di guardia, la cosiddetta portata morbida. Sempre a causa delle precipitazioni delle prime ore della giornata, dalle prime ore di questo pomeriggio è stato chiuso al traffico il sottopasso ferroviario di via Tito Groppo a Chiavari. Sulla carreggiata si è depositato un sottile strato di sabbia e fango che ha reso scivoloso l'asfalto. La polizia municipale ha perciò deciso la chiusura precauzionale in attesa che venisse effettuata la polizia. Il materiale sabbioso proveniente dal letto del fiume Entella ha provocato l'occlusione dei tombini di scarico, pieni di fango e di detriti. Dopo la polizia del manto stradale, la strada è stata riaperta intorno alle 18. Voltiamo pagina. 2600 persone bisognose e 24 enti caritativi che li sostengono. Sono i numeri del nostro territorio forniti dal Banco Alimentare, i cui volontari oggi sono stati impegnati nella 21esima colletta nazionale. Si sono raccolti alimenti in numerosi supermercati del Lettiguglio. Questa mattina siamo andati alla Conade di Chiavari. In campo anche gli studenti del comprensivo Ilaria Alpi. Vediamo. Perché oggi siete presenti qui? Siamo presenti qua innanzitutto per aiutare le persone più bisognose di noi e soprattutto siamo presenti qua con i ragazzi delle scuole medie Ilaria Alpi che contribuiscono ad aiutare il Banco Alimentare per raccogliere più alimenti possibili. I ragazzi capiscono il bisogno? La risposta dei ragazzi è stata molto buona e soprattutto è stato molto buono l'impegno che hanno messo chi ha fatto il turno prima e chi sta mettendo in questo turno qua per aiutare e per dare una mano. Che affluenza sta vedendo, che partecipazione sta notando alla colletta alimentare? Direi abbastanza buona, soprattutto da circa un'ora a questa parte, insomma il supermercato si è riempito e la gente sta rispondendo bene direi. Nonostante la pioggia? Nonostante la pioggia sì, c'è affluenza e le persone donano, direi quasi tutte. In generale che cosa è bene donare? Alimenti per l'infanzia, sughi, tonno, legumi, biscotti, olio e riso. Ha sentito delle domande da parte delle persone che arrivano al supermercato, qualche curiosità? Ci chiedono dove vanno a finire gli alimenti, qualcuno ha qualche perplessità e noi diciamo che gli alimenti vanno a finire in tutte quelle organizzazioni che si occupano poi della distribuzione. Ecco ma il bisogno sul territorio c'è davvero? Questi alimenti poi dove vanno? Sì, il bisogno sul territorio c'è davvero. Questi alimenti vanno a circa 24 strutture che sono sul territorio come per esempio il Banco di Solidarietà Odion, i frati Capuccini, la Caritas e altre. E vengono distribuiti a circa 2.600 persone. E nel giorno del cosiddetto Black Friday, la giornata internazionale delle vendite scontate, la Guardia di Finanza di Genova ha sequestrato oltre 24.000 prodotti contraffatti tra capi di abbigliamento e accessori e ha scoperto due magazzini nel centro storico di Genova, nelle vicinanze di Via Balbi dove la merce veniva stoccata. 5. Le persone denunciate per ricettazione, introduzione, produzione e commercializzazione in Italia di prodotti con segni falsi. Due di loro sono finiti nei guai anche per aver violato le norme sull'immigrazione. Il gruppo era dentro uno dei locali e stava confezionando i prodotti applicando le etichette delle maggiori griff sui vestiti. I militari hanno sequestrato presse, macchine cucitrici e cliché. E due arresti e due denunce a Lavagna nelle ultime ore. La prima persona a finire in manette è stato un ventotenne palermitano residente a Castiglione Chiavarese e già conosciuto alle forze dell'ordine fermato in quanto deve scontare una pena detentiva di 7 mesi e 20 giorni di reclusione nonché al pagamento di una multa di 400 euro in quanto responsabile di una rapina messa al segno a Seste Levante nel 2014. Il secondo arrestato è uno straniero di 54 anni, anche egli gravato di pregiudizi di polizia in quanto doveva scontare 5 anni e 4 mesi e 18 giorni di reclusione per un cumulo di pene per reati inerenti lo spaccio di stupefacenti. Dopo le formalità entrambi sono stati associati al carcere di Marassi. Le persone denunciate, sempre a Lavagna dei Carabinieri, sono invece due stranieri, un uomo di 50 anni e una donna di 26. La cosa nei loro confronti è quella di minacce, molestia e disturbo a persona ai danni di un connazionale di 47 anni coinvolto in una lite per futili motivi riconducibili a problemi di gerosia. Voltiamo a pagina adesso. Telepace Verona compie 40 anni. La sua storia è stata definita questa mattina dal Vescovo Monsignor Giuseppe Zenti, un'epopea della Provvidenza. La celebrazione eucaristica che si è svolta a Cerna è stata tutta improntata alla parola grazie. Vediamo. È incredibile, dopo 40 anni, ritrovarci qui a lodare e benedire il Signore per quello che ha operato e sta operando in mezzo al suo popolo, di cui noi siamo parte. Con queste parole, colme di gratitudine, Don Guido Todeschini, fondatore di Telepace di Verona, ha rivolto il suo indirizzo di saluto all'inizio della celebrazione eucaristica, preseduta dal Vescovo di Verona, Monsignor Giuseppe Zenti, nel santuario di Maria Stella dell'Evangelizzazione a Cerna, in occasione del quarantesimo compleanno dell'emittente. È stato lui, 40 anni fa, a ispirare la fantasia dei ragazzi e a illuminare la lungimiranza dell'allora Vescovo di Verona, oggi il venerabile servo di Dio Giuseppe Carraro, perché tutti potessero avere voce, non solo, ma perché tutti, senza alcuna distinzione di età, lingua, popolo e nazione, e di ceto sociale, potessero trovare ascolto. Il grazie di Don Guido è andato al Vescovo, ai sacerdoti, alle autorità, ai giornalisti, ai tecnici, agli operatori, ai poveri, a chi ha animato la liturgia e a chi ha offerto il pranzo per sostenere l'attività dell'operazione Mato Grosso. E sulla parola gratitudine si è concentrata l'Omelia di Monsignor Zenti, che ha rilevato come, in una società in cui tutto è dovuto e la riconoscenza è ormai merce rara, la celebrazione di oggi sia stata un'occasione per rendere grazie a Dio per quella che ha definito un'autentica epopea della provvidenza, ossia telepace che il Signore, ha detto, ha portato sulle spalle ogni giorno della sua esistenza ed è, prima di tutto, un regalo che Egli ha fatto alla sua Chiesa. La Vergine Maria, la stella dell'evangelizzazione, che con la sua vita di immacolata fedeltà a Dio è stata grazie esistenziale, ottenga nuove grazie di fedeltà a Dio nel servizio di evangelizzazione all'uomo di oggi per Radio Telepace. Veniamo adesso in diocesi la comunità di San Colombano di Vignale e festeggia domani il santo titolare. Nell'occasione saranno inaugurati i restauri del coro ligneo della Chiesa. Alle 15.30 ci sarà la presentazione dei lavori eseguiti. Alle 16 la Santa Messa presieduta da Don Mauro Gandolfo, vicario episcopale per la cultura e la formazione permanente, seguirà la processione con l'arca del santo. E sarà la comunità parrocchiale di San Salvatore di Cogorno ad accogliere domani le telecamere di Telepace per la Santa Messa domenicale. Nella Basilica dei Fieschi seguiremo la celebrazione dell'Eucarestia presieduta dal parroco Don Maurizio Prandi a partire dalle 11.15. Un momento di preghiera e anche di conoscenza di questa realtà parrocchiale che fa parte di una zona pastorale più ampia estesa anche alla collina di San Salvatore. Come sempre saranno presenti anche i volontari di Telepace per illustrare ai fedeli presenti l'operato della TV e le modalità per sostenerla. Appuntamento dunque domani alle 11.15 dalla Basilica dei Fieschi di San Salvatore di Cogorno in diretta poi su Telepace 1 al canale 15 e su Telepace HD al canale 515. Testimoniare in classe il proprio senso di appartenenza alla comunità cristiana è l'invito formulato dal Vescovo nella lezione speciale impartita agli insegnanti di religione partecipanti al corso diocesano di formazione. Vediamo le interviste. La capacità di essere attento alle persone, di essere nascoste. Quali sono i punti più importanti di quello che vi ha detto il Vescovo? Sicuramente quello di essere insegnanti di religione mandati. Quindi ha sottolineato il Vescovo l'importanza di rispondere a una chiamata. Per cui l'essere mandato comporta anche uno stile. Lo stile dell'insegnante di religione è quello che si pone appunto in servizio, in servizio dei bambini, nel mio caso insegno nella scuola primaria, che incontra tutti i giorni. Che tipo di atteggiamento deve avere il docente nei confronti dei ragazzi? Ma il Vescovo sottolineava come dobbiamo essere presenze che si pongono intanto in ascolto delle domande profonde che ci possono porre i bambini tutti i giorni. E poi anche essere insegnanti di religione testimone, che testimonia con la sua vita, ecco, quello che propone tutti i giorni in classe. In Casa Marchesani c'erano molti docenti, molti insegnano già da tempo religione. Al termine però avete voluto dare un attestato. Perché? Che significato ha? Sì, si tratta dell'idoneità che il Vescovo era da alcuni anni che non la rilasciava e che è proprio il documento ufficiale che attesta che questo insegnante è mandato dalla comunità cristiana a insegnare religione cattolica. Soprattutto l'abbiamo dato a tanti insegnanti della scuola paritaria ma anche ad alcuni insegnanti che si sono inseriti nella scuola statale negli ultimi anni. E vi ricordiamo che il prossimo incontro per i docenti di religione della diocesi è in programma martedì 5 dicembre, sempre in Casa Marchesani a Chiavari. Raffaele Mantegazza affronterà il tema vita e morte a duello. L'associazione Verità per Giulio Reggeni, il Tiguglio non dimentica, ha promosso il progetto Diritto al Voto e Consapevolezza Civica organizzando per gli istituti del Liceo Davigo di Rappallo una serie di incontri di approfondimento sulle tematiche della conoscenza, divulgazione dei diritti umani sul significato dell'etica e della giustizia. Gli studenti, dunque della classe 4a C del Liceo Linguistico, hanno incontrato i rappresentanti dell'amministrazione di Chiavari visitando Palazzo Bianco per conoscere la struttura del comune, gli organi principali e le relative funzioni di competenza. Insieme al sindaco, Marco Di Capo e all'assessore alla pubblica istruzione, Fiammetta Maggio, gli studenti hanno simulato una seduta di consiglio comunale al termine della stessa. C'è stata la votazione sull'impiego di fittizi, ma realistici fondi europei dedicati al Tiguglio. E si inizia a respirare aria di Natale nelle diverse località del Tiguglio. Questo pomeriggio a Rappallo si sono accese le luci natalizie e domani alle 10 ci sarà l'inaugurazione del castello di Babbo Natale. Anche a Chiavari si prepara alle festività con un ricco calendario di manifestazioni. Vediamo. Sono le aperture domenicali nei negozi del centro, insieme all'accensione delle luci di Palazzo di Giustizia e del comune, già avvenuta ieri in occasione del Black Friday, a dare via al ricco calendario di iniziative natalizie messe in campo dall'amministrazione di Chiavari per questo Natale 2017. Concerti in piazza e nell'auditorio in San Francesco, iniziative per coinvolgere grandi e piccini, mostre e percorsi guidati. Tutto questo troveranno i residenti e i turisti che nei giorni prima del 25 dicembre, passando poi per la sera di San Silvestro e l'Epifania, grazie ad uno sforzo congiunto tra amministrazione e associazioni. Abbiamo chiesto aiuto anche alle associazioni, io parlo per il mio assessorato, siamo arrivati con pochissime risorse, l'ho sempre detto dall'inizio, l'ha detto anche Gianluca Ratto a quest'estate. Però, vi ripeto, le associazioni si sono dimostrate subito disponibili e hanno dato una mano al comune, il comune siamo tutti noi e quindi, voglio dire, è bello questo clima di collaborazione. Nei giorni precedenti il Natale, il 23 e il 24, sarà allestita anche in piazza Matteotti la casa di Babbo Natale, mentre sempre per i più piccini, ma non solo, il 28 dicembre nell'area del porto turistico verrà organizzata una grande caccia al tesoro a cura dell'Apter Tiguglio e poi musica per accontentare davvero tutti i gusti. Abbiamo cercato di coinvolgere appunto tutta la città, ma anche tutte le fasce di età della popolazione, dei cittadini residenti, ma anche dei turisti che verranno durante le festività nella nostra bellissima cittadina e perciò abbiamo dal concerto rock al concerto jazz al Natale di solidarietà, che lo accenno insieme al Banco di Chiavari, il 17 di dicembre, a tutta un'altra serie appunto di concerti fino ad arrivare al 31 con i Pirati dei Caruggi in piazza Mazzini, una discoteca con loro e poi dopo a continuare al porto l'orchestra di Baguti. Si celebra oggi la giornata nazionale contro la violenza sulle donne, purtroppo la polizia di Genova in queste ore si è occupata di due casi, due uomini sono stati denunciati per lesioni, violenza privata e stalking, per due storie di violenza venute alla luce grazie al coraggio delle vittime che hanno trovato la forza di denunciare i loro persecutori. Tra le iniziative organizzate oggi a Lavagna si è svolta quella dell'associazione Lago Ra con un momento di riflessione in Piazza della Libertà con le operatrici specializzate di Telefono Donna, a cui è seguito un flash mob a ricordo di tutte le vittime di violenza. Lunedì invece a Chiavari si svolgerà la manifestazione della FIDAPA dalle 16 alle 18.30 in Piazza Mazzini verranno ricordate tutte le vittime donne di violenza con l'iniziativa Scarpe Rosse, marcia silenziosa di scarpe senza donne. E veniamo adesso allo sport. Finisce 1-1 al Piola la sfida tra Virtus Entella e Pro Vercelli. Le due formazioni con un tempo per uno si spartiscono la posta in palio e salgono entrambi a 17 punti a due lunghezze dalla zona retrocessione. Per i bianco celesti a segno Lamantia al ventesimo del primo tempo si tratta del terzo pareggio consecutivo, il secondo maturato in trasferta. Il pareggio della Pro Vercelli porta la firma di Bitfulco al 65esimo del secondo tempo. Sentiamo le interviste a fine partita. Una partita con un tempo per uno, risultato giusto, Entella un po' più audace nel primo tempo, un po' più timorosa forse nella ripresa. Sì, è stato un calo voluto perché sapevamo che se concedevamo campo alla Pro le palle velenose che mette Mammarella, io da un'altra parte potevo metterci in difficoltà. Non a caso il pareggio è nato da uno di questi cross nel quale nel primo tempo eravamo riusciti a non concedere neanche mezzo. Siamo stati più alti, tenevamo molto alta la linea di pressing e loro erano in grande difficoltà. Peccato nel primo tempo non essere riusciti a raddoppiare perché sicuramente le occasioni le abbiamo avute, però questa è la Serie B, si sta vedendo qualcosa, questa squadra sta crescendo continuamente e come ho detto anche oggi abbiamo fatto una buona prestazione, sicuramente il pari può essere un risultato giusto per quello che si è visto in campo primo tempo nostro secondo loro, rimane rammarico che forse nel secondo tempo magari non è stata un'entella bella come nel primo. Andrea, un bel gol a coronamento di un gran primo tempo dell'entella, quasi perfetta. Sì, abbiamo fatto un primo tempo importante, siamo riusciti a prendere alti, a imporre il nostro gioco, a fare gol, solo dopo il vantaggio inconsciamente ci siamo abbassati troppo e questo ci ha portato loro a uscire fuori e a farci il gol il pareggio. Ecco, mi si diceva la prima volta che andavamo in vantaggio abbiamo quasi avuto paura di gestirlo. Sì, è quello là sicuramente, andiamo a tre partite, magari tre o quattro partite non riusciamo a sbloccare la partita, quindi siamo trovati davanti e ci è venuta sicuramente inconsciamente questa paura di prendere gol e ci siamo abbassati troppo. Ecco, però da fuori comunque si è avuta ancora una volta l'impressione di un'entella in crescita, un passettino avanti anche rispetto alle ultime due esibizioni. Sì, sicuramente, questo è un campo difficile dove tutti trovano difficoltà, noi anzi siamo riusciti a imporre il nostro gioco per tutto il primo tempo e quindi sicuramente prendiamo le cose positive e ce le portiamo avanti per il futuro. E dal calcio alla pallanuoto si è disputata la prima giornata di campionato di A2 maschile, è andato male l'esordio per il Chiavari nuoto che in trasferta contro il Vela Ancona ha rimediato una sconfitta per 8 a 4, è andata meglio invece la di meglio Lavagna 90 che nella piscina del parco del Cotone in Ficio si è imposta per 18 a 7 sulla Rarinantes a Renzano. Ieri intanto la società lavagnese si è presentata ufficialmente alla città e ai mezzi di informazione. Vediamo. Cosa prevedi con questo campionato? Già prima di cominciare fare delle previsioni è sempre molto difficile, lo è già in corso, figuriamoci pronti via, ma niente, cercheremo di fare sempre come sempre del nostro meglio, le prerogative sono tutte buone, siamo una squadra un po' ringiovanita, magari poi l'allenatore dirà la sua, a cominciare dall'allenatore, quest'anno abbiamo un nuovo tecnico che è passato direttamente dalla calottina alla panchina, speriamo bene. Come capitano, come vedi la squadra di quest'anno? Secondo me è un'ottima squadra, i ragazzi sono delle ottime persone, soprattutto ci tengo a precisarlo, poi sono dei ragazzi che possono crescere, il nostro compito, di noi più grandi, quindi mio, di Francesco Cotella, di Ale Casazza e Andrea Martini che è l'allenatore, è quello di aiutarli a piano piano inserirsi per bene e a prendere le retini di questa società. Questo campionato, voi gli ultimi anni siete sempre andati ai play-off, pensate di riuscire a raggiungere l'obiettivo anche quest'anno? Buono, non te lo so dire adesso, naturalmente ce lo auguriamo tutti, però la squadra c'è ringiovanita tanto e quindi bisogna provare a volare con questi ragazzi veramente straordinari. Praticamente quest'anno la Rosa sono entrati in pianta stabile due giovani in più under 20, io praticamente alleno una prima squadra dove otto elementi sono under 20, quindi voglio dire è sinonimo di gioventù, di puntare sui più giovani, di far crescere i propri giovani, ovviamente contornati da qualche giocatore che serve in questa categoria per ottenere buoni risultati. E sui temi della palla nuoto ritornerà la puntata di lunedì sera del Buonasera in onda alle 20 su Telepace 1 al Canale 15. E dopo il rinvio torna domani la Michelina, la gara lunga 10 km, una manifestazione podistica nel verde con partenza dal borgo di San Michele a Rapallo su un percorso che si snoda attraverso la rete dei sentieri locali, organizzata da S.D. Rowing Club San Michele e il Gess Agostino Moltedo, appuntamento dalle 9 alle 10.30 per le iscrizioni e gli accrediti. Alle 11 la partenza in via Pomaro a San Michele di Pagana. E nella nostra scheda altri appuntamenti in agenda per domani. Appuntamenti in agenda per domenica 26 novembre. L'Avis di San Colombano Certeno gli organizza una raccolta di sangue. Dalle 8 alle 12 sarà possibile compiere questo gesto. L'autoemoteca che sarà presente in via Vittorio Veneto a Pianezza di Cicagna. Escursione sui nuovi percorsi geologici e naturalistici fra Framura e Levanto, organizzata dall'osservatorio Raffaelli di Casarza Ligure. Ritrovo alle 8.50 dalla stazione ferroviaria di Sestri Levante. La filarmonica Cristoforo Colombo di Santa Margherita Ligure festeggia Santa Cecilia, patrona della musica. Alle 9.45 è prevista la visita al cimitero urbano con la deposizione di fiori in ricordo dei musicanti, dirigenti, maestri e benefattori defunti. Alle 10.30 la Santa Messa nella chiesa di San Siro, a seguire la sfilata musicale per le vie del centro. Seconda giornata del mercatino dei sapori e delle tradizioni a Chiaveri in via Rivarola, dalle 10 alle 20 saranno presenti espositori provenienti da tutta Italia con le loro eccellenze enogastronomiche. Le vie del carsismo a passeggio nelle meraviglie del mondo ipogeo alle origini dei Liguri guida alle escursioni. Il tema dell'incontro a cura del geologo Marco del Soldato in programma alle 10.30 al Museo archeologico di Chiavari. Festa di Santa Cecilia anche per il complesso musicale di Santo Stefano Davito. Alle 11.00 la Santa Messa nel santuario di Nostra Signora di Guadalupe animata dal coro polifonico. Al termine omaggio ai caduti di tutte le guerre e in memoria dei soci defunti. Open day per l'Istituto Maria Luigia di Chiavari. A partire dalle 15.00 gli spazi e i docenti della scuola saranno a disposizione delle famiglie per conoscere l'offerta formativa. Alle 16.00 al Teatro Comunale di Molleone di Cicania secondo appuntamento con il teatro in dialetto genovese con la compagnia teatrale di Carasco Quelli di Navotta che porteranno in scena una commedia brillante di Luciano Borsarelli chiusa a Yau Primo con la regia di Ivo Pattaro. Alle 17.30 all'oratorio della Santissima Trinità di Lavagna in Via Nuova Italia concerto Music for Life Emergency. Un concerto con l'ensemble La Bouchard formato dai sei trombe, barocche e timpani. Il ricavato della manifestazione andrà a sostenere il Centro di Eccellenza in Chirurgia Pediatrica Enteb in Uganda. Appuntamenti in agenda per lunedì 27 novembre. Il talento dello sport è il titolo dell'incontro che si svolgerà al Liceo Sportivo Gianelli di Chiavari. A partire dalle 10.30 gli studenti incontreranno Michele Cavalli responsabile del settore giovanile della Juventus. Open day per il Liceo Marconi del Pino di Chiavari. Dalle 15.00 alle 18.00 verranno illustrati a studenti e famiglie il piano di studi e le attività formative dell'Istituto. Nuova lezione per l'Accademia Culturale di Rapallo. Alle 16.00 a Villa Coirolo Pier Giorgio Prada Moroni affronterà l'argomento Un diamante grande come la terra. E proseguono i corsi di cultura di Chiavari. Alle 16.10. nella sala livellare di Via del Pino, il Vira Alandò terrà la seconda parte della lezione di filosofia sul tema La parola e l'immagine. Sono 16 gli apicoltori del Parco dell'Aveto che hanno preso parte all'edizione 2017 del concorso Mieli dei Parchi di Liguria. Domani a Pieve di Teco in provincia di Imperia si trà il convegno apistico e la cerimonia di premiazione dei migliori Liguri. I partecipanti della Val d'Aveto hanno presentato ben 31 campioni, in prevalenza Castagno e Millefiori. La manifestazione si trà in mattinate e prenderà il via alle 9.30. E con questa notizia si conclude questa edizione di Tiguli Oggi. L'informazione torna lunedì a partire dalle 7.30 con il Buongiorno di Teleradiopace. Insieme a Marco Revello poi alle 12.45 la prima edizione del TG13. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata e buona domenica.